Salve a tutti, sono Gloria Ubaldi, ho 27 anni e sono di Ascoli Piceno, nelle Marche. Quando ho iniziato a studiare recitazione mi sono molto impegnata sulla dizione per tentare di eliminare la mia cadenza perché noi tendiamo a parlare con una sorta di cantilena. Ma che fai recitazione? E mo' che sei diventata un'attrice? Noi più o meno parliamo così. Ma sette anni fa mi sono trasferita a Roma per studiare musical, quindi oltre a recitare canto e ballo e partendo dal presupposto che il dialetto romano io l'ho sempre amato alla follia me ce so volute di voi due settimane per cominciare a parlare a sta maniera. Io non ce posso fare niente, mi è proprio naturale. Infatti a casa mi semagnano questa cosa. Che altro dire? Questo sono io. Grazie mille.